benvenuti nel mio store qui potete acquistare magliette a maniche corte a maniche lunghe personalizzati con i loghi che ho creato io di american track eurotrack simulator 2 immagini che ho creato con gimp scattate ovviamente su american track simulator e potete anche acquistare una bellissima tazza questo è tutto i prezzi sono modici se acquisterete darete un ottimo contributo ai miei canali grazie mille e vi lascio a grazie a tutti 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 grazie a tutti